A Palazzo San Gervasio, nella Potentino, nella struttura di accoglienza di lavoratori extracomunitari, nel mese di agosto, su 450 posizioni controllate, sono state riscontrate 15 posizioni di lavoratori in nero e nessun episodio di caporalato. E' quanto emerge dalla lettura dei dati diffusi dal tavolo interistituzionale di contrasto al fenomeno della caporalato, che si è riunito nei giorni scorsi per la seconda volta dalla sua istituzione. Alla base del tavolo, nato lo scorso 25 marzo, c'è il programma Suprema Italia, che riunisce, oltre alla Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, in unione con l'Ispettorato del Lavoro, Organizzazione Internazionale per l'Emigrazione e il Consorzio di Cooperative Nuova. In regione, è stato reso noto, sono stati attivati poli sociali, punti di riferimento e di accompagnamento per i migranti al rischio di sfruttamento lavorativo in agricoltura e marginalità sociale, che hanno raggiunto oltre 200 persone nei territori di Vulture, Alto Bradano 120 e Metapontino 90. 40 sono state le uscite delle unità di strada formate da mediatori, psicologi e legali e sono stati reclutati 70 lavoratori per i corsi di perfezionamento Alsia. Nella struttura di accoglienza di Palazzo San Gervasio sono stati ospitati 300 lavoratori ed emersa l'esigenza di programmare per tempo di anno in anno quello di cui hanno bisogno le aziende in termini di mano d'opera. Non è andato a buon fine l'avviso per l'accoglienza di 50 persone nell'area del Metapontino.